In questa video guida parliamo di temperini elettrici. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. Un temperino elettrico è un dispositivo elettronico che permette di temperare rapidamente e senza alcuno sforzo matite e pastelli. Questi temperini sono costituiti da un motorino elettrico collegato ad una lama rotante. La lama entra in azione quando riceve una pressione nel momento in cui inseriamo la nostra matita all'interno del temperino. Tutto il materiale di scarto prodotto dal temperino, generalmente, viene raccolto all'interno di un contenitore che si trova al di sotto della lama che tempera le matite. Alcuni modelli di temperino elettrico sono fissi e vanno alimentati attraverso la presa della corrente. Altri modelli, invece, sono dotati di batteria e possono essere portati in giro.